Buongiorno a tutti, grazie mille, sono Locatelli Luca, sindaco di Veleseta e voglio aggiungermi alle parole già dette da Alex e Claudio per ringraziare tutti quelli presenti sul territorio. Siamo un paese piccolo o spiccolo, di 200 abitanti, però abbiamo dei produttori e dei prodotti che fanno invidia al mondo e di questo il Comune e tutti, anche i cittadini penso, sono contenti di avere e appunto per questo Emozioni in Valle, come ha già detto Claudio, è nato per far conoscere il nostro prodotto, i nostri prodotti che ci sono solo da noi, fatti come una volta, fatti ancora al naturale, con la fatica, con il lavoro di parecchia gente che ha creduto nel territorio e rimasta investito e adesso ha delle aziende rinomate e soprattutto dove nascono dei prodotti eccellenti. Io passo la parola a Locatelli.